Mi chiamo Domenico Mancino, vivo in Svizzera, in Basilea. Tramite un amico ho conosciuto, il dottor Palmas. Sono andato da lui e ho conosciuto persone lì che mi hanno aiutato a vedere il mio problema e alla fine l'ho risolto al 100% contento e felice. Dunque venendo qui per la prima volta, mi hanno fatto prima le radiografie, mi hanno spiegato il problema che io avevo, di salvare un po' dei miei denti che ancora sono molto buoni e mi hanno fatto estrazione di 9 denti. Il secondo step che sono venuto, mi hanno aperto di nuovo, mi hanno fatto ricostruzione dell'osso e mi hanno anche messo dei perni buonissimi in titanium, sono veramente contento. Ho un bel sorriso adesso, sono felice e contento. Sì, la mia famiglia, cioè la mia famiglia non tanto, ma più parenti, zii o amici dicevano, eh ma come hai il coraggio di andare fino lì in Moldavia, non conosci nessuno. Invece non è niente vero, bisogna veramente partire dal cervello di andare. E ho trovato la gente molto, la clinica l'ho trovata molto eccezionale veramente. Le persone parlano italiano, i ristoranti parlano italiano, cioè non ho avuto nessun problema. Allora io dico sempre questo, che una persona il sorriso è molto importante. Quando vedi quei denti che non vanno bene, la dentatura fa molto, sia per una donna, sia per un uomo. Adesso io sto quasi sempre a ridere per mostrare i miei bei denti. Sono veramente felice di averli.